La Guardia di Finanza è entrata al Liceo Galilei di Firenze con un cane antidroga per un'operazione un po' particolare. Non si tratta di una retata o di controlli di routine, ma di una simulazione sul lavoro dell'unità cinofila delle Fiamme Gialle, inserita all'interno di un progetto più ampio. Un progetto nato lo scorso ottobre con la firma di un accordo tra la Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, per portare a scuola i temi della legalità e della fidelità fiscale in tutte le sue forme. Veicolare ai ragazzi il messaggio educativo che l'onestà sostanzialmente, oltre ad essere un valore, è conveniente sotto il profilo economico in quanto assicura il benessere sociale, pagare le tasse, non acquistare merci contraffatte, assicura migliori servizi sociali sotto il profilo della qualità ma anche della quantità. E i ragazzi, anche grazie al linguaggio scelto dalle Fiamme Gialle che hanno puntato sulle immagini, sui film e sulle canzoni del paroliere Beppe Dati, hanno ascoltato, fatto domande e alla fine colto il messaggio fondamentale. Non servono solo le forze di polizia, non serve solo la Guardia di Finanza, ma ciascun cittadino può chiedere a se stesso e agli altri un comportamento retto, cominciando appunto da se stessi, ma poi pian pianino dobbiamo diffondere, siamo maggioranza, dobbiamo allargare questa maggioranza e dobbiamo fare in modo che chi invece è minoranza di furbi, di approfittatori si restringa sempre più anche attraverso l'azione dei cittadini. Ma c'è anche chi non nasconde una piccola perplessità. Perché per certi versi è anche triste che dobbiamo venire a scuola a reinsegnare l'onestà. Sembra proprio che alla scuola tocchi sostituirsi alla famiglia.